Anche quest'anno al santuario di Isola del Gran Sasso si riuniranno numerosi giovani non solo provenienti da tutta Italia per la tendopoli di San Gabriele. Il tema che verrà affrontato nella 44esima edizione è sintetizzato nello slogan Non stare zitto. È un invito rivolto ai giovani a fare rumore che riprende le parole di Papa Francesco. Dopo il Covid ci stiamo riprendendo ed è una cosa molto significativa anche il tema di quest'anno sulla speranza. Il mondo di oggi ha bisogno di speranza dove la speranza non nasce da una utopica visione del futuro ma è ancorata a una certezza di un passato, di qualcuno che nel passato mi ha amato, ci ha amati, ci vuole bene. E questa certezza vissuta oggi ci proietta nel futuro. Ecco la speranza. Guardo con gioia il futuro perché qualcuno mi ha amato. Gesù. Per quattro giorni dal 22 al 25 agosto sono previsti tantissimi eventi per celebrare la fede e invitare i giovani a non avere paura e a sognare sempre. Il momento clou sarà con Don Patriciello. Sicuramente Don Patriciello è molto importante perché è un segno, è un uomo della speranza in questo momento storico che noi viviamo. E abbiamo bisogno di questi modelli. Ma oltre a questo io voglio sottolineare la presenza di Luciana delle donne che è un'imprenditrice importante che di fatto ha cambiato imprenditoria. Cioè praticamente ha lasciato la sua azienda e si è messa a fare con i carcerati. E ha fatto delle carceri in un luogo dove si lavora e si ridimono i carcerati. Cioè si vive la speranza nel concreto. Va ricordato inoltre che domenica 4 agosto centinaia di pellegrini arriveranno a piedi da terra in occasione del 44esimo pellegrinaggio Teramo San Gabriele, organizzato dai passionisti del santuario animato dai giovani della Tendopoli. È una realtà bellissima, una realtà che è sbocciata spontaneamente dal popolo di Dio e questo popolo di Dio ci spinge a camminare. Ogni anno è una novità, è una bellezza, qualcosa che non muore. Il popolo cammina. La Tendopoli San Gabriele rappresenta un momento unico di unione e condivisione. Questo grazie alla bella presenza di persone, non solo ragazzi ma anche famiglie. Non dobbiamo star senti, dobbiamo gridare perché nel cuore dei giovani, mi ci mettevo anch'io, non sono più giovani, ma nel cuore dei giovani c'è la speranza e c'è il domani. Io vi aspetto. Ciao ragazzi.